Vedete quella farfallina lì? Questa farfallina bianca? Ecco questa sta cercando i cavoli che sono qui perché vi depositerà le uova da cui nascerà la cavolaia e la cavolaia se non si debella subito praticamente sono peggio delle cavallette, sono bruchi che distruggono tutto nell'arco di pochi giorni, ve lo dico per esperienza perché sono veramente un flagello.